Non c'è solo la fuga dal proprio luogo di nascita, l'abbandono della casa, degli affetti, l'addio ad una vita che non dà la possibilità di essere vissuta con dignità. Nel dramma delle migrazioni dal continente africano verso l'Europa non c'è solo il cammino infinito, l'interminabile viaggio verso un'occasione di riscatto. C'è anche il sequestro e la tortura. E ciò che emerge da un'inchiesta della procura di Agrigento e poi trasmessa per competenza alla DIA di Palermo, che ha portato all'arresto di tre persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, alla violenza sessuale, alla tortura, all'omicidio e al sequestro di persone a scopo di estorsione. Sono Mohamed Kondè, originario della Guinea, 27 anni, Hameda Hamed, egiziano, 26 anni, e Mahmoud Ashuya, egiziano, 24 anni. Le vittime, soccorse dalla nave mediterranea, sono arrivate a Lampedusa il 7 luglio scorso. Hanno riconosciuto i tre carcerieri tramite le foto segnaletiche di migranti giunti in Italia in viaggi precedenti che, dopo ogni sbarco, la polizia alla ricerca degli scafisti fa visionare i profughi appena sbarcati. I migranti venivano rinchiusi in una ex base militare e sottoposti a violenze fisiche o sessuali. Raccontano di aver assistito all'omicidio di decine di migranti. Per chiedere il riscatto alle famiglie dei prigionieri, i carcerieri usavano un telefono di servizio. I migranti dunque potevano contattare i familiari e chiedere loro di pagare il riscatto. Ai parenti venivano inviate le foto delle violenze subite. Chi non pagava veniva ucciso o venduto ad altri trafficanti.